Misure straordinarie per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del virus covid-19 nelle residenze sanitarie assistite per anziani e disabili in altre strutture sociosanitarie. Rossi mette nero su bianco in un'ordinanza tutte le regole per evitare appunto che il covid-19 si diffonda in queste strutture indubbiamente più delicate di altre. Nell'ipotesi, dice Rossi, in cui si discontri un caso positivo all'interno di una di queste strutture, l'ospite, se sintomatico, la cui condizione clinica appare instabile, sarà preso in carico dal servizio sanitario regionale. Se pauci sintomatico, cioè con alcuni sintomi, potrà essere mantenuto in isolamento all'interno della struttura se possibile, ma solo se le condizioni strutturali lo consentono. L'intera struttura, nel caso in cui non ci sia un'organizzazione in moduli separabile per aree e percorsi, sarà sottoposta a quarantena. Il personale continuerà a svolgere l'attività lavorativa salvo l'insorgere di sintomatologia o positività al covid-19. Chi lavora in queste strutture potrà comunque scegliere di rientrare al proprio domicilio oppure di pernotare, se è possibile, nella struttura di lavoro o ancora nelle strutture alberghiere appositamente allestite dalla ASL, i cosiddetti alberghi covid. I test diagnostici per la verifica della positività specifica Rossi devono essere effettuati su tutti gli operatori quando si verifica nella struttura un caso confermato di covid-19. Agli ospiti di nuovo ingresso, oltre alla normale verifica da effettuarsi a cura degli operatori della struttura, sarà effettuato il tampone. Grazie. Grazie.